eccoci qua nei nuovi studi di Radio Mandrake abbiamo tutto quanto, il tavolo, il computer, abbiamo anche il telefono guarda che bello questo, bello vintage è bello e funziona perché funziona funziona benissimo, guarda eh e come ogni radio che si rispetti abbiamo anche un po' di musichetta che adesso mettiamo su una bella musichetta che piace tanto al Baio come questi filmatini qua eh esatto eccoci con le mani in tasca allora stasera i Mandrake tornano all'Alcatraz esatto da Mimmo ma torniamo ancora là da Mimmo è tutta la turma dell'Alcatraz e poi stasera ci sono cose grandi perché festeggiamo anche qualcuno eh tipo diciamo l'analisa l'analisa festeggeremo diremo gli auguri di compleanni un'altra diavoleria esatto allora ci vediamo tutti dai e già ci vediamo tutti dai ma c'è qua ancora l'Alcatraz e non c'è niente che non va Grazie a tutti.